Siamo al Circo L'Unione dove sta per avere inizio una mostra intitolata i Beatles. Il curatore è Angelo Pasqua. La passione per i Beatles quando nasce e che cosa rappresenta per te? La passione per i Beatles nasce intorno agli anni 70. A fine degli anni 70 andavo in seconda media quando ho comprato il primo disco. Poi è stata coltivata durante gli anni 80, 90 e anche oggi sono diventato un buon collezionista. I Beatles rappresentano una pietra miliare secondo me del rock mondiale. Cioè quello che è successo prima dei Beatles e poi dopo i Beatles. È un solco profondo nella musica. I Beatles che le nuove generazioni forse conoscono solo di nome? Sì, molti non li conoscono assolutamente però c'è una rivoluzione dei Beatles. Ora è uscito un cofanetto, ho visto che è primo negli Stati Uniti e anche in Gran Bretagna. Molti ragazzi però si accostano ai Beatles perché è una musica facile da ascoltare, è una musica per quei tempi all'avanguardia. Ancora oggi molte pubblicità di prodotti sono sottofondo delle canzoni dei Beatles. Tu sei un collezionista, quanti pezzi hai? Ho circa 140 pezzi, tra 33 giri e 45 giri che ormai sono quasi introvabili 45 giri. E che cosa ti senti di dire alle nuove generazioni che per la prima volta vengono a visitare questa mostra e sentono parlare dei Beatles? Ora l'accesso alla musica è completamente diverso. Io il primo disco che ho comprato l'ho raccontato prima all'amico Gianni che ho fatto un mese di dieta praticamente perché mia mamma metteva soldi per il panino e io mi mettevo da parte per comprare il disco. Ora basta fare un click e i ragazzi hanno una musica, ma una musica troppo commerciale, una musica che dopo due mesi non esiste più. I Beatles dopo 55 anni ancora ci sono. Questa mostra si inaugura stasera e resterà aperta quando? E quando si potrà visitare? Si resterà aperta fino a domenica. Allora oggi c'è una cover band di Siracusa che farà 10 pezzi e poi domani c'è solo la mostra dei vinili e domenica ci tengo a precisare che c'è un film da me prodotto che dura un'ora sulla vita dei Beatles. C'è una ragazza di Augusta, Giorgia Cacciacuerra, con Gheleano Volpe che è il maestro di musica fa eseguire alle tre pezzi dei Beatles. Qual è il gruppo che si esibisce questa sera? Beatles Crew di Siracusa. Stasera si parla dei Beatles, siamo con la Presidente del Circolo Gaetanella Bruno e con la curatrice e sostenitrice del Circolo Ena Laferla. Siamo molto contenti di ospitare anche quest'altra attività e di ricordare anche se a 50 e passane di distanza questo fantastico gruppo musicale che come sapete ha segnato veramente un'epoca dal punto di vista musicale sicuramente per le loro innovazioni ma anche dal punto di vista sociale per il loro impegno politico per il loro impegno nei confronti dei neri oppure del pacifismo e quant'altro. La cosa fantastica è che nonostante questo gruppo abbia operato appena tra virgolette per una decina di anni eppure ancora ci sono degli appassionati. La Beatolmania non ha avuto fine tanto è vero che noi questa sera abbiamo il piacere di ospitare due che sono proprio affetti da questa piacevole Beatolmania che sono Angelo Pasqua e Rosario Grasso che ringraziamo per la loro disponibilità. Come voi sapete si articolerà questo incontro convegno chiamiamolo così in tre giorni due musicali, il primo e l'ultimo e domani ci sarà solamente la mostra aperta al pubblico. La Ferla, il Circo L'Unione ha accolto con piacere l'invito di Angelo Pasqua di presentare e presenziare questa mostra. Certamente, è stato un invito che abbiamo accolto subito anche se è qualche mese che parliamo di questa mostra poi naturalmente per organizzare una mostra non è una cosa che si può fare in due giorni però alla fine credo che ce la faremo. Volevo ricordare l'ultimo giorno, la domenica ci sarà per la conclusione della mostra una proiezione di un video di un montaggio realizzato da Angelo Pasqua alternato a un'altrettanto piccola band è un duo, in realtà un duo pianoforte e voce sempre con delle cover dei Beatles. Restando in tema, il Circo L'Unione è aperto alla città e per queste feste natalizie state organizzando qualcosa di culturale, di interesse sociale? Certamente è già pronto il programma del mese di dicembre ci saranno le solite presentazioni di libri non mancheranno anche gli incontri musicali e anche un incontro culturale, una conferenza quindi sicuramente siamo a disposizione sempre aperti al pubblico.